Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Future Tech lo sappiamo siamo stati un poco assenti per vari impegni e speriamo che abbiate sentito la nostra mancanza ma non temete perché siamo ritornati sul tubo con un contenuto davvero davvero esclusivo e che farà piacere a tanti di voi infatti oggi parleremo di come guadagnare con TikTok Allora ragazzi TikTok penso che ormai è un'app di cui credo tutti abbiano sentito parlare davvero sta spopolando e tutti la stanno iniziando ad usare ma questo perché? Beh non è tutto dovuto diciamo solo e soltanto a quello che propone questo sicuramente ma anche perché dietro c'è stato un grande lavoro di marketing e di pubblicizzazione che è stato fatto anche grazie ad un programma che si chiama Referral Program che è un programma che viene utilizzato spesso dalle aziende che permette di far guadagnare agli utenti che lo iniziano ad utilizzare al fine di pubblicizzarlo e quindi di consigliarlo ad altri utenti in modo da aumentare il numero e il bacino di utenti che utilizzano tale app o tale servizio che sia bene TikTok anche essa ha deciso di utilizzare un Referral Program e ha fatto questo programma basato su un tipo di economia che si chiama Gemification la Gemification appunto prevede due tipi di moneta che sono i diamanti e i rubini i diamanti saranno equivalenti al valore di 1 euro quindi ogni diamante vale 1 euro e i rubini invece valgono 1 fratto 10.000 quindi avremo un valore che pare a 0,00001 più o meno forse avrò detto qualche 0 in più qualche 0 in meno ma diciamo ci siamo capiti in cosa consiste appunto completare delle missioni al fine di guadagnare che siano rubini o diamanti infatti avremo delle missioni diciamo un po' semplici delle missioni un poco più impegnative ma non temete mai niente di esagerato e delle missioni che invece possiamo compiere solo all'inizio o in porzione limitata vediamo nel dettaglio una delle prime missioni che possiamo compiere è quella di registrarci proprio al programma di Gemification e quindi al Referral Program con un codice utente di un altro utente se volete in descrizione ve ne lascerò un paio di alcuni account che potrete inserire e con questo codice guadagnerete già i primi 50 centesimi che non è tanto ma non è neanche poco direi inoltre possiamo continuare proponendo TikTok tramite il nostro codice a nuovi utenti e questo ci permetterà di guadagnare ben 5 diamanti quindi ragazzi parliamo di 5 euro per ogni utente che invitiamo ma questo lo possiamo fare per un massimo di 10 utenti quindi questo ci permetterà di guadagnare al massimo 50 euro in più i 50 centesimi che abbiamo all'inizio e già siamo quindi a 50 euro e 50 inoltre per ogni persona che scaricherà TikTok e inserirà il nostro Referral Code potremo guadagnare ulteriori 2 euro e 50 se questa persona per 3 giorni di fila guarderà video su TikTok per almeno 3 minuti ogni giorno quindi noi avremo un guadagno netto su ogni persona di altri 25 euro quindi ricapitolando grazie solo agli inviti potremmo guadagnare ben 50 euro più 25 euro più 50 centesimi all'inizio quindi parliamo di 75 euro e 50 ragazzi che non è per niente poco e questa diciamo è la prima parte della missione che fa parte proprio del Referral Program inoltre all'interno di questo piano previsto da TikTok c'è anche una seconda parte che è quella delle missioni quindi delle cosiddette missions che sono invece giornaliere quindi avremo delle daily mission da compiere che sono innanzitutto l'entrare nell'applicazione ogni ingresso in app ci varrà inizialmente 10 rubini infatti questa volta parliamo di rubini ragazzi non di diamanti quindi 10 rubini parliamo di veramente circa 10 millesimi di euro quindi veramente di pochissimo 10 rubini per il primo, secondo, terzo, quarto giorno poi diventeranno 20 per i successivi giorni poi diventeranno 30 fino ad un massimo di 50 per l'ultimo giorno che faremo accesso quindi guadagneremo per un massimo di 50 rubini nell'arco di 1 a 7 giorni quindi ogni settimana ovviamente all'azzeramento della settimana completata si ripeterà il ciclo e potremmo riguadagnare una volta o ancora una volta giornalmente tutti i rubini che ci spettano le altre missions che troviamo invece sono standard una prima mission che troveremo solo all'inizio è quella di leggere il regolamento del referral program lo potremo fare solo una volta e ci permetterà di guadagnare i primi 100 rubini le altre missions invece si ripeteranno ogni volta che le completiamo tutte quindi se io completo tutte le missioni il giorno dopo alla mezzanotte del giorno dopo potrò ripetere un'altra volta tutte le missioni se il giorno precedente non sono riuscito a completare una di queste missions dovrò aspettare di completarla e poi aspettare che si farà a mezzanotte quindi diventerà un nuovo giorno e potrò fare diciamo le nuove mission che mi spettano le mission che troviamo sono praticamente sempre le stesse e parliamo delle più semplici che sono quella di vedere un minuto di video più un'altra che è 3 minuti di video che ci varranno 100 rubini e ne avremo un'altra che invece consiste nel guardare 10 minuti di video che ci varrà 500 rubini inoltre ne avremo un'altra che consisterà nel pubblicare un video ebbene ragazzi per questo c'è un piccolo trucchetto se a voi non va di pubblicare il video e volete solo guadagnarci i rubini potete benissimo pubblicare un video magari inquadrando tutto nero non facendo vedere niente stanno zitti lo pubblicate aspettate circa 30 secondi girate un poco sulla home page poi tornate sul referral vedete che vi sono stati accreditati andate sul vostro profilo ed eliminate il video così state tranquilli che nessuno vi vedrà il video e l'avrete utilizzato diciamo solo per guadagnare lo potete fare senza problemi io l'ho fatto e non mi è mai successo niente quindi tranquilli l'ultima missione che possiamo compiere diciamo giornaliermente è quella di condividere il nostro referral code quindi di condividere tic toc con gli amici bene potete non so inviarla a qualcuno che vi conosce che sa di questa cosa mandarlo sul gruppo o semplicemente creare un gruppo dove ci siete solo voi inviarlo a voi stessi e nessuno diciamo vedrà questa cosa e state tranquilli ma andiamo alla parte che forse un po' interessa a tutti voi direte sì ma io sto guadagnando diamanti rubini ma che cosa significa io voglio i soldi ebbene non vi preoccupate ora vi accontento e vi spiego come fare una volta accumulate tutte queste gemme non ci resterà che collegare un account paypal basterà andare nel tasto ritira che sarà scritto proprio ritira e avremo una schermata che ci proporrà di ritirare 50 centesimi, 2 euro, 5 euro, 10 euro o 20 euro quindi noi potremo scegliere il taglio di soldi da ritirare che potrà essere ritirato esclusivamente tramite paypal quindi dovrete avere un account paypal avere la vostra mail collegata al conto paypal inserirla lì dentro, collegare diciamo le due applicazioni e in automatico potrete scegliere quale taglio convertire e potrete fare una conversione al giorno quindi se convertite la prima volta 50 centesimi la seconda volta dovrete aspettare per convertire il resto per quanto riguarda i diamanti essi sono immediati quindi subito li troveremo convertiti in euro mentre per quanto riguarda i rubini dobbiamo aspettare solitamente un giorno perché ogni giorno vengono convertiti anch'essi in diamanti quindi se per esempio abbiamo 2700 rubini alla mezzanotte ci verranno convertiti nei nostri 27 centesimi una volta convertiti nei nostri 27 centesimi li possiamo aggiungere al nostro credito e quindi accumulare la somma per esempio di 50 centesimi che sarà una somma utile a prelevare facciamo ritira selezioniamo l'account Paypal ritiriamo ed è ragazzi immediato c'è da dire però che Paypal tratterrà una piccola somma non temete non è tanto è il 4% che sono le tasse che si ritiene Paypal su questa conversione su questa operazione e diciamo non possiamo transigere a questa piccola spesa ci ritroveremo i nostri soldi accreditati non temete sarà immediato e li potremo avere a nostra disposizione subito se fate diciamo questo per una settimana e diciamo completate sempre le missioni invitate tanti amici io vi assicuro che un piccolo guadagno di circa 5 euro a settimana ve lo riuscirete a fare e diciamo che comunque per arrotondare non è poco considerando che li state guadagnando utilizzando un social che ora come ora sta spopolando quindi sarete cool sarete alla moda ma guadagnerete anche voglio occupare questi ultimi minuti del video giusto per parlarvi un poco di referra al program molti di voi magari potranno pensare che ok si sono pochi euro si è un programma per farsi pubblicità chissà quanto sarà utile ma io vi assicuro che è una grande trovata di mercato che le app non usano da poco tempo voglio vedere quanti di voi hanno sentito parlare di app come Dropbox Airbnb Uber possiamo affermare che queste siano app ormai veramente di uso comune cioè non penso ci siano ancora persone che non abbiano mai utilizzato una di queste tre app davvero sono di utilizzo comune tra ogni persona bene sappiate che queste sono state tre app tra le prime e a fare un referral program che sono stati anche dei referral program davvero davvero alla portata di tutti e che hanno davvero coinvolto tutti Dropbox innanzitutto è stata una delle aziende una delle applicazioni che ha riscosso maggior successo dai referral program quindi vi lascio pensare e immaginare dove arriverà TikTok bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video come sempre vi saluto ma vi chiedo di iscrivervi al canale commentare e condividere questo video da Daniele è tutto ciao ciao